Oggi siamo qua per un momento duplice e in primis perché il cancetto dell'anno di Valentino dona a Mirko Bonatti, il piettore artistico della Talent Academy, un definito in datore e in più per la presentazione del Big Parade, che sarà questo spettacolo di arte varia in favore del progetto Lisa per mettere nel nostro territorio i 12 definitori un spettacolo che sarà il 19 marzo al Teatro Garibaldi e vedrà sul palco BIP, Very Important Person persone illustri del nostro territorio che fanno altri mestieri ma che per una volta si esibiranno per beneficenza. Oggi è un giorno molto importante e quindi vorrei ringraziare tutti, sia l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione gratuitamente il teatro, anche i numerosi sponsor e soprattutto gli onorevoli che parteciperanno in prima persona.